La colazione è uno dei tre pasti principali della giornata e in età scolare è in grado di influire in maniera positiva sull'apprendimento ed il rendimento scolastico. La colazione ha quindi la funzione di fornire l'energia necessaria per affrontare la mattinata, sempre intensa, tra studio, sport e varie attività. Questo presupposto ha dato vita al progetto del ricercatore del CNR Rocco De Pris, scontitolato la prima colazione nell'apprendimento cognitivo, che ha coinvolto alcuni studenti di una scuola elementare di Nocera Inferiore, che da gennaio a maggio hanno consumato in classe una colazione a base di frutta, seguendo il calendario di stagione. I risultati sono stati confrontati con gli altri allunni che non hanno seguito questo percorso. I bambini hanno partecipato con molto entusiasmo. I risultati sono evidenti, perché in effetti, come già la psicologa ha detto, l'apprendimento, la conoscenza e il miglioramento anche delle capacità di attenzione. Nelle ore critiche, tra le 10 e le 11, i test hanno dato tutto un esito positivo. Diciamo che questo è già il primo risultato raggiunto. Il secondo risultato è la conoscenza del calendario di stagione, che è indispensabile per una migliore qualità di vita. Il secondo risultato già si è ottenuto, il terzo risultato, hanno migliorato il loro consumo di frutta. Abbiamo comunque diviso i bambini in due gruppi. Un gruppo di controllo, che erano bambini che non effettuavano in classe una prima colazione equilibrata, mentre invece un gruppo sperimentale che ogni giorno beveva comunque latte, mangiava il pane, fette biscottate con marmellata e un frutto di stagione. Sono stati comunque somministrati dei test che andavano comunque ad indagare l'apprendimento, in particolare il livello cognitivo. Ed è emerso sin dalla seconda somministrazione dei test che bambini presenti e appartenenti al gruppo sperimentale, quindi quelli che facevano ogni giorno una prima colazione in classe, avevano un'attenzione maggiore e una concentrazione, così come anche una memoria a breve termine, rispetto a bambini che erano presenti comunque, che facevano parte del gruppo di controllo. Io mi sono limitato esclusivamente a fornire aranciata, cercando di rivalutare una varietà vecchia di arancia, che ci sta ancora nelle nostre zone, il tipico arancio biondo di Sant'Egidio, che ha alti valori nutrizionali, come ci conferma anche il nostro professore. L'impressione è positiva perché in primis posso dire che posso portare la testimonianza mia di mio figlio che non faceva colazione la mattina, non amava la marmellata e facendo questo progetto lui ha imparato a mangiarla e poi penso che sia una cosa positiva perché i bimbi da piccoli imparano a mangiare sano.